Buonasera e benvenuti a questo concerto nell'ambito del Festival Musica Nova organizzato presso il Conservatorio di Adria sotto la direzione artistica del maestro Riziano Bedetti docente appunto del Conservatorio di Adria Vi presento, sono Maurizio Corazza che sono il docente di organo e composizione organistica appunto del Conservatorio e ci troviamo a Roma perché causa Covid questo concerto doveva essere fatto in diretta nella cattedrale adriese ma appunto con questi problemi allora si è preferito registrarlo e lo stiamo registrando nella chiesa dove sono organista cioè San Pietro in Montorio che si trova nel Giannigolo a Roma il concerto verterà su brani di autori del XX e XXI secolo il primo brano sarà il Cortège et l'Itanie di Marcel Diupré Marcel Diupré è stato uno dei più grandi compositori del Novecento della musica organistica e non solo nonché famoso docente al Conservatorio di Parigi organizzato organista a Saint-Sulpice insomma un grande e questo brano qui c'è anche una versione per organo e orchestra però l'originale è stato scritto per organo successivamente è un brano di Marian Sava che è stato un famoso brillante organista, compositore polacco e quindi ascolterete una toccata e fuga appunto scritta per organo a seguire tre brani di autori, docenti del Conservatorio di Adria quindi inizieremo con una fantasia sul Gloria sul Gloria in Celsis Deo della Messa Ottava detta degli Angeli dell'autore Mirko Ballico a seguire due brani, due invenzioni del maestro Marco Nodari e successivamente un triptico per organo quindi in forma diciamo di sonata con un tempo andante, un tempo lento e un tempo veloce alla fine del maestro Tiziano Bedetti appunto tutte e tre docenti del Conservatorio il concerto terminerà con questa suite caratteristica di un'autrice olandese che si chiama Margareta Cristina de Jong è un tema con variazioni e termina con una fuga sul famoso tema Abu di Rege Mahman questo tema è stato sviluppato molto anche da Mozart detto ciò, buona scuola sodio Grazie. 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 Grazie.